Andrea Damante Inoltre, il giovane ha anche risposto ad alcune domande dei full lovers che fanno riferimento alla sua vita sentimentale. Le dichiarazioni di Giulia rendono furioso Damante Andrea Damante pare sia furioso con Giulia Delellis a causa delle ultime dichiarazioni fatte da quest'ultima sui social. Alcuni utenti hanno fatto delle domande all'influencer in merito al rapporto con Andrea. Lei ha lasciato intendere che tra i due non ci sia nessun riavvicinamento, tuttavia, c'è molto rispetto e tanta serenità. La protagonista, inoltre, è anche intervenuta sul gossip inerente e il fatto che Damante sembra essersi fatto una nuova vita. Giulia ha dichiarato di essere felice per lui e di non serbare nessun rancore.Con il suo intervento, dunque, l'influencer è come se avesse avallato le ipotesi relative ad un nuovo flirt del suo ex. Ebbene, le recenti dichiarazioni pare non siano state molto gradite dall'ex tronista di Uomini e Donne che, infatti, si è sfogato sui social. Il ragazzo ha, in un primo momento, provveduto a rimuovere tutte le foto e i video inerenti lui e la sua ex compagna di vita. A notare la cosa sono stati alcuni fan che, immediatamente, hanno provveduto a comunicare la notizia di Anira Marzano. Continua dopo la foto. La reazione di Andrea è quest'ultima, quindi, ha divulgato l'informazione sui social, dopo averne accertato la veridicità. Effettivamente, andando sull'account Instagram del Dama, si può tranquillamente notare che non sono presenti più immagini che riguardano la coppia. Secondo il punto di vista di molti fan, dunque, Andrea Damante sarebbe furioso con Giulia per aver lasciato intendere che lui abbia un nuovo flirt.Poco. Dopo, infatti, sui sociali il giovane ha parlato della questione. Nel rispondere ad alcune domande dei fan, si è trovato ad affrontare anche questo spinoso argomento. In particolar modo ha detto di non essersi rifatto una vita. Il giovane ha accusato tutti coloro che hanno diffuso questa notizia chiedendogli come facciano a conoscere cose di cui neppure lui ha conoscenza. Segui Contro Cultura su Instagram, clicca qui. Contro Cultura su Instagram, clicca qui. Grazie a tutti.